Ciao ragazzi, oggi siamo qua con Agostino di FCK Detail che ci ha prestato la macchina per fare delle riprese con una ragazza, lei non ha idea di quello che stiamo per fare però la portiamo a fare un giro e vediamo se si spaventa abbastanza da diventare divertente è così professionista che ci riesce anche sulla sigaretta in bocca, è là che si vede l'abilità è tutta lì l'abilità Grazie Comunque veramente complimenti e bellissimo Viagra? Sì No aspetta, c'è un problemico alla portiera Scupto Laura È un viaggio Mi cità E accostato è un viaggio Con un viaggio Con un viaggio in giallo Però è un viaggio Per farò Strugga Scupto Ok che ti piace il video che cambia, che strilla e che con un giocattolino puoi fare un male veramente tante, tante, tante macchie tante io vengo da vent'anni di autolavaggio e quindi giustamente la cura dell'auto ce l'ho sempre avuto e ho insegnato e ho dato a persone tante, tante diritte tu prometti di imparare io dico, tu fai nessuna domanda questa è la tua parte quindi piano piano io ho dovuto sempre sviluppare a mie spese dei metodi e dei prodotti per poi venderli o darli ai miei clienti e lì mano a mano da una cera si è passata una cera più performante dai la cera, togli la cera una cera più performante c'è un sigillante nanotecnologico e lì nasce una nanotecnologia che cos'è un nanotecnologico? io c'ero questo sigillante nanotecnologico e tu lo spuzzavi e questa rimaneva tre mesi sopra l'auto non può essere l'ho applicata nei portali antigraffio che c'ho e il risultato c'è? c'era la macchina è veramente protetta idro-rebellente noi siamo convinti che il trasparente è dritto invece il trasparente è trasfagliato la nanotecnologia che fa entra dentro le cagate dei piccioni sono il re della melle il vostro sogno ve lo rendo bellissimo in città sarà un lungo viaggio in città signora buongiorno dobbiamo pensieri? prendiamo la precedenza ecco no, no, niente tutte cose no, no, tutti arrabbiati ma che c'è cos'è? no, io... oh, c'è cos'è ma forse perché è troppo buono è troppo grande stanno a metter un po' ma metterò ma metterò come mai il suo rumore? perché questo c'è lo scarico aperto quindi a rilascio come tutte le macchine avendo il catalizzatore tampona tutto questa scarica tutto non è attacca ma attacca ovicina non è sembra non è questo è è possibile o piacere la l'apostanza è invece ma è quindi ma pure come struttura, è un motoro più grande la bellezza di questa macchina non è l'accelerata perché l'accelerata ci può stare, ma la macchina cammina la bellezza di questa macchina è questa cosa qua che adesso vedrai, volare, potete fare questo, guarda frenare, quindi quando freni con questa macchina, freni? perfetto, grazie per avermi fatto finire se ne vuoi provare? no, ok però quella scelta di sport, troppo, troppo sportiva questa è la finestra, non ci per caso, è una mini, mini normale, no? vediamo un po' di musica ci vuole pure una certa musica per una certa macchina, no? però non è capito oh 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 meno male che c'è la punta che ci salva vedi la Fiat come ti salva questa fisica è un po' sonata è Abarth, è Abarth, l'abarth comprendi l'abarth però non si può dire che non è un marchio forte se ne vedono tanti e se ne vedono tanti però io mi diverso non fai male sono dei scagnozzi dietro statevi bene piano piano l'abarth non è bella non è bella non è bella Noi, noi. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!